Area sicura rilevata. La scuola rileva. Non so neanche perché siamo qui, chi può voler rubare questa roba? Non so, non so, non so. 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 Non so. Non so, 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 non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Grazie a tutti. Perché io? Ecco rilevato. 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 Sento solo rilevato. Ecco rilevato. altri contatti ostili rilevati devo fare in fretta si è che coperti come faccio a colpire qualcuno da qui ho rilevato lo stile con corazza pesante copritemi stanno tutti bene accesso deposito rifornimenti sbloccato guardate quello guardate 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 Oh, no. Sì, 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 sì. Alzimitelo! Merda! È morto! Rilevati usti in arrivo. Merda! 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 Verdi! Merda! I reietti tengono un civile prigioniero vicino alla tua posizione. Si chiama Sam. Devi andare a liberare lui e altri prigionieri. Ti guardo alle spalle! Ok! Il fottuto è... Il fottuto è... Con voglio di rifornimenti alleato vicino. Il fottuto è... 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 Il fottuto... Il fottuto... Il fottuto... Il fottuto è...